Ciao a tutti voi da Rosi e benvenuti a questo nuovo interessante appuntamento della nostra vetrina dell'auto oggi in compagnia di Autoformula concessionaria Nissan accanto a me è Alessandro che saluto Ciao Alessandro Ciao Rosi, buonasera a tutti passo ora a illustrarvi le nostre fantastiche offerte Partiamo subito da Nissan Juke Envision 1.5 DCI 110 CV una vettura eccezionale che oggi può essere vostra solo a 149 euro al mese con inoltre 10.000 km di carburanti in omaggio la vettura è veramente completa assistenza al parcheggio a 360 gradi a Runview Monitor navigatore satellitare Nissan Connect sistema di protezione Nissan Safety Shield che protegge voi, i vostri cari e l'auto clima automatico, Intelligent K cerchi in lega da 18 vetri scuri e una vernice metallizzata bianco perla con personalizzazioni bianco vi invito quindi a venire a vederla e a provarla ora vediamo la nostra miglia Nissan X-Trail Envision 130 CV, due ruote motrici il prezzo è veramente fantastico per questa vettura perché potete averla con soli 299 euro al mese oppure a 28.500 euro la vettura è veramente completa tetto apribile panoramico sistema di navigazione multimediale assistenza al parcheggio a 360 gradi a Runview Monitor sensori di parcheggio anteriori e posteriori apertura elettrica del bagagliaio chiave intelligente cerchi 19 e vetri privacy veramente un'ottima offerta per questa vettura che è adatta per tutta la famiglia e anche per sia la città e per i grandi viaggi vi invito inoltre a venire a provarla e vederla presso il nostro showroom ora passiamo a Micra la nostra city car dai consumi eccezionali e dall'ottimo comfort tutte le Micra sono 5 porte climatizzate con radio cd sistema di voce bluetooth i motori sono 1.280 CV tutti Euro 6 un'altra cosa importante questa vettura con questa promozione che c'è in atto può essere vostra a 8.450 Euro e questo viene offerto grazie anche a un altro tipo di finanziamento molto vantaggioso vi aspettiamo quindi a vedere la vettura a provarla e a toccarne la qualità passiamo ora a Pulsar la nostra berlina fantastica negli spazi e nel comfort di guida può essere vostra a un prezzo a dir poco strepitoso 14.950 Euro solo a ottobre però e la possibilità anche di un finanziamento a tasso zero con 4 anni di garanzia la macchina è completa ha giacoli scontroll climatizzatore radio cd lettore mp3 usb e comandi a volante un display da 5 integrato nel quadro strumenti computer di bordo la versione è la versione 1.2 benzina visia e credetemi questo è un prezzo veramente eccezionale per un'auto nuova con questa qualità quindi rinnovo come sempre il mio invito a venirla a provare e a toccarla con mano passo ora a presentarvi la nostra punta di diamante Nissan Qashqai sempre un passo avanti da tutti imitato il nostro crossover dalla linea fantastica e dai consumi eccezionali oggi può essere offerto a voi a un prezzo eccezionale soli 20.500 Euro e in più anche questo mese continua la promozione del tasso zero in 48 mesi con 4 anni di garanzia la versione è una visia che è già molto completa start and stop cruise control climatizzatore radio cd collettore mp3 bluetooth ma la cosa fantastica è che l'offerta continua anche sulle altre versioni quindi abbiamo Accenta da 22.700 Euro e un Enconnetta già con tetto e barre panoramiche a 25.300 Euro questa versione è veramente completa e anche il top di gamma Tecna con fare i BLED cerchi in lega da 19 e sistema Run View Monitor viene comunque data a un prezzo fantastico soli 26.950 Euro sempre e avete capito bene 4 anni a tasso zero con 4 anni di garanzia passiamo ora a un'altra vettura per la famiglia la nostra Note comoda confortevole dai bassi costi esercizio oggi può essere vostra a 12.600 Euro e la vettura è completa climatizzatore radio cd cruise control sedili posteriori abbattibili 6 airbag le spi e già motore oro 6 la versione è il 1.2 benzina e la vettura è qua disponibile da vedere e da provare vi aspettiamo passo ora invece a presentarvi la nostra auto ad emissioni zero una vettura fantastica che è il futuro questa vettura addirittura è completamente elettrica ha una dotazione veramente completa cerchi lega fendi nebbia navigatore satellitare che addirittura vi inquadra le centraline per la ricarica ha già la ricarica veloce e una cosa fantastica è la sua autonomia pensate 250 km questa vettura può essere vostra da 249 euro al mese con tagliandi inclusi per 3 anni assicurazioni incendio e furto questa è veramente un'offerta eccezionale considerando che la vettura è completa e in più potrete circolare liberamente e non pagare né i parcheggi né le zone ZTL e nell'Ecopass veramente un gran privilegio oggigiorno ora vi presento la nostra Evalia il nostro monovolume adatto un po' a tutti gli scopi la cosa fantastica di questo prodotto è che è molto compatto però molto spazioso questa vettura può essere vostra a 249 euro al mese e in un allestimento molto completo airbag frontali laterali climatizzatore cruise control cerchi lega da 15 radio cd mp3 con anche il bluetooth del telefono e la presa usb i vetri posteriori sono oscurati e i paraurti sono in tinta l'offerta è veramente vantaggiosa vi invitiamo a venire a vedere la vettura a provarla e a toccare con mano qualità e possibilità di carico vi presento ora a Navarra di questa nuova versione fantastica Navarra che è già un must di Nissan oggi è ancora più forte e sempre più innovativo questo modello può essere vostro da soli 24.700 euro in più abbiamo delle rivoluzioni molto importanti a livello tecnologico e tecnico una tonnellata di portata utile e dei comodi posti inoltre abbiamo la possibilità grazie a quest'anno fiscale della detrazione del 140% in questo periodo poi abbiamo un'offerta per il lancio veramente eccezionale 48 mesi a tasso zero veramente un'offerta da non perdere inoltre su tutti i nostri commerciali abbiamo una garanzia di 5 anni ripeto 5 anni di garanzia su questi mezzi commerciali questo è il nostro commerciale di punta uno dei più venduti molti di voi lo conoscono già è l'NV200 adesso rinnovato può essere vostro a soli 13.750 euro e ricordiamo sempre questa legge del 140% di detradibilità che veramente consente un grandissimo risparmio per la vostra azienda abbiamo oltretutto la possibilità di allessire il modello secondo le vostre esigenze sia celle frigorifere sia officine meccaniche possiamo veramente allestirlo a vostro piacimento disponiamo inoltre di usati veramente eccezionali Micra a chilometro zero aziendali a partire da 8.450 euro molto accessoriate con cerchi lega fendi nebbia luci diurne bluetooth del telefono volante in pelle sono delle vetture veramente con una dotazione ricca in perfette condizioni pari al nuovo abbiamo anche note a partire da 11.800 euro chilometro zero anche lei un'ottima dotazione pulsar chilometro zero a 14.900 euro diesel molto accessoriata bluetooth del telefono volante in pelle cruise control radio cd mp3 cerchi in lega diciamo una dotazione molto completa disponiamo inoltre di cascai aziendali vari colori vari allestimenti a 20.500 euro le vetture sono realmente pari al nuovo con pochissimi chilometri e vengono trattate e viste proprio come vetture nuove x-trail aziendali e chilometro zero in versione tecna super accessoriati completi veramente di ogni tipo di accessori dei sedili riscaldabili in pelle ha i fari VLED ha la possibilità del parcheggio automatico ha i sensori di parcheggio vetri scuri diciamo proprio la versione completa la tecna qua da vedere e vi vorrei invitare a venirla a vedere e a provarla anche Fiat 500L vettura veramente ben tenuta e con una dotazione completa alimentata a metano quindi garantisce un ottimo risparmio e la possibilità di essere ecologici il prezzo di questa vettura è di 14.000 euro l'anno del 2013 la vettura ha 83.000 km poi abbiamo una bellissima e direi rara visto i chilometri solo 8.500 Peugeot 2008 4x4 è del 2014 la vendiamo a 16.500 euro nella versione Allure la vettura è veramente completa navigatore satellitare e una trazione 4x4 che si adatta ad ogni tipo di fondo e di stagione Golf 2014 1.6 diesel vettura pari al nuovo veramente una macchina eccezionale e tenuta in perfette condizioni e invece per chi ha bisogno di una famiglia anzi ha una famiglia numerosa abbiamo questo Touran del 2011 7 posti ottima vettura che vendiamo solo i 16.000 euro i chilometri sono 65.000 ma tutti tagliandati e la vettura è veramente in perfette condizioni proseguiamo poi con i nostri fuoristrada abbiamo gimni aziendali e chilometri zero a partire da 15.800 euro con la possibilità anche del GPL alla fine abbiamo questa magnifica S-Cross Starview 4x4 automatica completa veramente di ogni comfort con soli 30.000 km del 2014 la vettura viene venduta 17.500 euro ma è veramente accessoriata di ogni tipo di comfort climatizzatore automatico bilzona cerchi in lega vetri scuri e questo fantastico tetto Starview che veramente ha la possibilità di vivere la vettura come se fosse un cabrio per non parlare poi della trazione 4x4 Suzuki che è veramente incredibile bene siamo giunti al termine di questo appuntamento un po' che non ve lo ricordo volevo ridirvi che se volete rivedere la trasmissione potete andare tranquillamente su autodelgiorno.tv e avrete l'opportunità cercando la pagina di Auto Formula di andare a cliccare e rivedere la trasmissione e inoltre non dimenticate le nostre app per cui scaricate anche l'app per essere sempre aggiornati su tutto quello che vi proponiamo come vetrina dell'auto un grazie a tutti voi per l'attenzione e un grazie a te Alessandro grazie a tutti e buonasera ti aspettiamo numerosi grazie a tutti